E ora un articolo dedicato a Michela Vittoria Brambrilla un'animalista convinta, amante dei cani e politica. Leggiamo direttamente da visto che Michela Brambrilla e i fondamenti della Costituzione sui cani L'ho definita la madre di tutte le battaglie animaliste E non è do proprio di avere esagerato, qualche giorno fa, presentando insieme con il Presidente delle principali associazioni animaliste riunite nella Federazione Italiana Associazione Diritti Animali e Ambiente Un manifesto appello, sottoscritto anche da altri intellettuali, per chiedere, che come già avviene in altri paesi europei, Isa ha accolta tra i principi fondamenti della Costituzione la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e degli animali in quanto esseri viventi e sezienti Michela Brambrilla e la Costituzione europea sugli animali Aggiunge Michela Vittoria Brambrilla Del resto gli animali sono già menzionati nelle Costituzioni di paesi europei come la Germania e l'Austria dal 2002 E 2005, la Svizzera che alla protezione degli animali dedica un intero articolo e tutela anche la dignità della creatura minacciata dalle moderne tecniche di manipolazione genetica E degli animali come esseri sezienti parla esplicitamente il Trattato di Lisbona dell'Unione Europea Sappiamo che il rispetto per la vita qualsiasi vita è una delle grandi conquiste dell'uomo, un segno di autentica civiltà Sappiamo che è riduttivo parlare di vita intendendo sola L a nostra vita e non quella degli animali che condividono con noi il viaggio sull'arca planetaria Sappiamo che i diritti degli animali, contestati da alcuni, rivendicati da altri, sono in realtà i nostri doveri di uomini, non padroni, del creato, semmai amministratori responsabili si spera un patrimonio di appreservare e tramandare delle generazioni future Vittoria Michela Brambrilla e la sensibilità per gli animali Dice ancora Michela Vittoria Brambrilla Un tempo questa sensibilità apparteneva a pochi Ma da quando trent'anni fa ho iniziato la mia militanza animalista è cresciuto enormemente il numero di persone che non accetta più questo stato di cose Un'evoluzione per molti aspetti analoghi a quella della questione ambientale che ci interroga sui limiti dello sviluppo Tanto che ormai nessun discorso serio sul futuro può prescindere dal riferimento a problemi come il riscaldamento globale, l uso del territorio, la gestione delle risorse naturali Il riferimento al paesaggio nell'attuale articolo 9 della Costituzione non basta più Ci vuole una tutela più incisiva Grazie a tutti! Grazie a tutti.